Ciao ragazzi, sono Mattia Rockgod e ben ritrovati nel mio canale per un nuovo video. Andremo a delineare la mia libreria Series X. In realtà vi dirò solamente 10 titoli potenziali che ho intenzione di acquistare o scaricare dallo Store Xbox. Magari ci potrebbe scappare anche un acquisto fisico per qualcuno di questi giochi, però come ben sapete ormai più della metà della mia libreria attuale è tutta digitale, escludendo giochi scaricati da Game Pass. In fisico comunque ho un buon numero di giochi, però ormai mi trovo più comodo a comprarli online, quindi sullo Store Xbox, così da avere anche il download immediato. Per questa prima tornata di giochi sono solo 10, quelli che mi sono venuti in mente, però ce ne sono altrettanti che ovviamente mi verranno in mente nei prossimi giorni. non è detto che non prenda il gioco in fisico, ovviamente se l'hanno realizzato in fisico, perché alcune di queste release magari sono solo in digitale. Non mi sono appuntato esattamente quale di questi 10 giochi è stato fatto in fisico, oppure solo in digitale, oppure in entrambi i formati. Mi sono scritto solo i titoli dei giochi, più un paio di appunti su magari il genere o altre notizie appunto di cui sono a conoscenza. Partiamo subito con Trepang 2. Titolone, è stato ben pubblicizzato, ha accolto anche molto bene, è uno sparatutto horror. Ho visto anche alcune immagini che dicono che sia particolarmente violento, e io questo sparatutto quando l'ho visto sullo Store, ho detto, minchia, perfetto per me, guardo solo su Sirius e io dico, porca miseria. Me lo devo assolutamente comprare, perché fondere lo sparatutto con l'horror non è così semplice, ma dicono che questo titolo sia bello, quindi è sicuramente una potenziale carta vincente, questo appunto connubio tra azione e horror. Devo comprare solamente il gioco per avere la conferma. Immortality, attualmente l'ultimo titolo di Sam Barlow, un giocone, ha preso un sacco di recensioni positive, un giocone anche pieno zeppo di scene assurde. è stato fatto anche per diverse piattaforme, anche questo purtroppo solo per la Sirius. Si poteva giocare su One, ma al prezzo di avere l'ultimate, quindi anche l'accesso al cloud. Io ho detto, non mi interessa. Me lo voglio giocare comprato dallo Store. Come faccio? Devo avere la Sirius. Quindi subito in lista questo gioco qua. Su PC ci poteva stare, ma ha dei requisiti troppo alti. L'hanno fatto anche per Netflix. Io ho provato a scaricarlo su Netflix, ma è ottimizzato da far schifo, ed è un peccato. L'hanno fatto anche per Mac, poi l'hanno fatto per PlayStation. Quindi alla fine pian piano tutte le piattaforme ci sono. Però secondo me su Sirius potrebbe fare un bel figurone, anche perché non è un film interattivo. È un'avventura interattiva, un po' particolare. Però ne hanno parlato talmente bene che non posso non comprarla. Quindi anche questo è un gioco che fa parte della mia lista futura. Hogwarts Legacy. Beh, il nome dice già tutto. Lo so che esiste anche per One, ma dicono che su Sirius sia spettacolare. Quindi aspetto apposta di comprare la Sirius per potermi prendere questo titolo a tema Harry Potter. Marta is Dead, ve ne ho parlato abbastanza spesso in un periodo sul mio canale. Vi ho fatto il video dove vi parlavo un po' delle notizie riguardo questo titolo horror tutto italiano. Abbiamo fatto anche il vlog dedicato alla polemica su PlayStation, che il gioco è stato censurato di alcune sequenze, mentre su PC e Xbox è stato pubblicato in versione non censurata. E la mia vicinanza all'utenza PlayStation, che purtroppo ha dovuto giocare con un titolo tagliato in alcuni punti. Io comprandolo su Xbox avrò la versione ovviamente integrale. Quindi aspetto apposta la Sirius, nonostante sia stato fatto anche per One. Wanted Dead Gioco che fonde hack and slash con sparatutto in terza persona. È stato fatto sia per PS4 che per One, ma anche per PS5 e Sirius. Dato che è uno dei titoli che avevo messo in wishlist da un po', ho detto Ma perché non comprare la Sirius e comprare anche questo gioco? Dicono che sia particolare. È un titolo che ovviamente non è stato esente da critiche, però l'azione non è poca. Dato che su Sirius gira bene, ho detto Ma aspettiamo di comprare la Sirius. Quindi peraltro una buona parte di questi giochi sono usciti anche su One O devono uscire su One Oppure ci sono quelli solo per Sirius. Per esempio 3Punk 2, così ne approfittiamo, spendiamo qualche altro minuto 3Punk 2 solo per Sirius Immortality solo per Sirius È possibile giocarlo sulla One con il Cloud, ma ve lo sconsiglio Se avete la Sirius prendetevelo subito Hogwarts Legacy è sia per One che per Sirius Ma lo prenderò per Sirius Martez Dead è per entrambe le piattaforme Wanted Dead stessa cosa Attenzione al prossimo che è particolare The First Descendant Un free to play che uscirà pensato un po' il 2 luglio Quindi tra pochissimo Ed è un gioco che ha avuto anche problemi di sviluppo Perché è stato rimandato alcune volte È stato sviluppato da un team sudcoreano Un titolo molto atteso Avrà aggiornamenti costanti È un action Doveva essere un action Non so se in primo o in terza persona Mi sembra in terza persona Ma non vorrei dire una minchiata È un gioco d'azione Questo è sicuro E dicono che sia appunto un titolo atteso Perché Per una caratteristica Veramente particolare È uno dei primi titoli ad avere l'Areal Engine 5 Sviluppato non solo per PS5 Series Ma anche per PS4 e One Ovviamente è stato chiesto al team Ma come cacchio avete fatto a portare un gioco di questo calibro Quindi con l'Areal Engine 5 Che è un motore ancora nuovo Possiamo dire così Sulla Xbox One Che ormai è una console vecchia E il team ha detto di aver avuto non pochi problemi a farlo Quindi ho dovuto ottimizzare tutto quanto È per questo che è stato rimandato Perché volevano assicurarsi di avere un'esperienza Bella fluida su tutte le piattaforme Quindi tanto di cappello a questo team Ovviamente me lo potrei anche andare a scaricare Quando esce su One appunto il 2 luglio Ma aspetterò la Series Così vediamo magari i primi aggiornamenti E vediamo intanto che cosa ne pensa la community di questo gioco Ora parliamo di un paio di remake Di cui uno Ne abbiamo parlato anche tempo fa Molto polemizzato Per il fatto che l'abbiano portato su PS4 Mentre sull'Xbox hanno preso solo la Series Ovviamente parlo di Resident Evil 4 Remake Cercherò di prendere la versione completa Quindi la Gold Con dentro anche i DLC di Ada Adesso che addirittura arrivo la Series Il remake del 4 Me lo prenderò senz'altro Dover giocato alla Remastered del 2006 Ho fatto una fatica della Madonna Con che cazzo di comandi Finalmente So che nel remake hanno messo dei comandi Alla Resident Evil 2 Remake Quindi dovrebbe essere un pochino più Per le mie corde E appunto Se riesco Prendo anche i DLC Se trovo l'edizione Gold Prendo quella Poi Silent Hill 2 Remake Qua potrei stare Minimo mezz'ora a parlarne Silent Hill 2 È uno dei migliori Subvaloro degli ultimi anni Finalmente È stato Rifatto Peccato per qualche piccola polemica Con gli ultimi trailer Però Il gioco Sembra Stia venendo bene Dobbiamo aspettare ottobre però Anzi no Pardon Ottobre per gli utenti PC e Playstation Ebbene sì Perché gli utenti Xbox Ancora una volta L'hanno presa in quel posto Perché sarà esclusiva temporanea Playstation Per 12 mesi Mi chiedo Chi cazzo ha dato l'ordine Di renderlo esclusiva temporanea Su Playstation Quando si poteva fare Multipiattaforma Sin da subito Dietro questo remake C'è il Bloober Team Bloober Team È il team che ha dato vita A Layers of Fear Per fare giusto un esempio Il Bloober Team però Sta sul cazzo a tanti È da quanto ho capito Quindi Però Cazzo Volete mettere in conto Silent Hill Che è da un bel po' Che non se ne parla Quindi Meno male Che hanno fatto Il remake Di uno dei titoli migliori A mio parere Dell'intero franchise Konami ovviamente Sarà la pubblicazione Forse sono stati loro A dire No no Rendiamo l'esclusiva PC e Playstation Playstation 12 mesi E poi facciamo la versione Per Sirius Sicuramente sarà per Sirius Perché per Playstation È solo la 5 Quindi Se rimarrà esclusiva un anno Vuol dire che Come minimo Fino a ottobre Dell'anno prossimo Non lo potrò giocare E vaffanculo E vabbè Fa niente Pazienteremo Comunque È un gioco Che prenderò senz'altro Life is Strange Double Exposure Finalmente Un nuovo titolo Della saga di Life is Strange Ormai Deck Nine Ha preso Le reddini del franchise Titolo che Quando è stato annunciato Ha avuto Una Una standing ovation Perché ovviamente È un titolo Molto atteso Dopo True Colors Finalmente Abbiamo un nuovo capitolo Torna Max Finalmente in versione adulta Dovrà a che fare Con un omicidio Che si svolgerà In due linee temporali Se non ho letto male E Una cosa interessante È che sarà Il primo titolo Di Life is Strange A essere solo Possiamo chiedere Next Gen Perché è appunto PC PS5 E Sirius Switch Non lo so Su Switch Già è difficile portare i giochi Quindi non lo so Se ci arriva Esempio True Colors Su Switch Era un bel po' dopo Le altre piattaforme E Double Exposure Appunto Sarà un altro Possiamo dire Un titolo della rinascita Appunto Perché Max È da un po' Che non la vediamo In Before the Stone C'è stata Chloe Poi c'è stato Life is Strange 2 Poi c'è stato True Colors Con Alex Chen Quindi Rivedere Max È bello Ovviamente Chissà se magari Un prossimo Life is Strange Dopo questo Rivedremo Chloe Chissà E anche questo Ovviamente Lo andrò a prendere Uscirà a fine ottobre Esattamente il 29 Ma Non avendo ancora La series In quell'esatto Momento Purtroppo Non posso Preordinarlo Perché non c'è Per One Quindi lo andrò a comprare Magari dopo un po' Che avrò la series E andiamo a finire Con un titolo Anche questo Un remake Molto particolare Un remake Che si è fatto attendere Perché su PC È uscito nel 2023 Su console Solo nel 2024 Quasi a un anno Di distanza E Parliamo di System Shock Gioco Molto molto famoso Parliamo degli anni 90 La Night Dive Studios Che è un team Abbastanza conosciuto Ha creato appunto System Shock Ha fatto il 2 Però questo remake È stato accolto Così bene Che forse è in cantiere Anche il remake Del 2 Non vorrei dire Una cavolata Ma ce lo vedrei Molto bene La cosa interessante È che questo remake È uscito solo su PC Inizialmente Poi hanno detto Ma arriverà su console Sì sì Ci arriva Però abbiamo bisogno Di più tempo Hanno dovuto fare Un kickstarter Per avere i fondi Per svilupparlo Finalmente su console C'è E la cosa interessante A parte la Prime Matter Che ha pubblicato Ha fatto un lavoro Della Madonna Anche su console Devo dire Ho visto qualche immagine Gira da dio C'è anche su Xbox One E PS4 Ma io aspetterò Pazientemente Di avere la series Perché secondo me Sulla series Gira molto bene E quindi Avete già capito Che questi titoli qua Una buona parte Sono su One Ma anche su series E quindi aspetto apposta La series Per averli Altri invece Sono solo per series Quindi devo per forza Aspettare la console Quindi Anche se Alcuni di questi titoli Sono su One Non avrebbe senso Prenderli adesso Che tra qualche mese Compro la console nuova Quindi Dovrò portare pazienza Il problema è che io di pazienza Quando si parla di giochi Non ne ho tantissima Quindi Speriamo che arrivi Presto novembre Dicembre Perché intorno a quel periodo La voglio prendere E magari iniziare subito A raccimolare Qualche soldino in più E appunto A comprarmi Magari questa lista di giochi Più altrettanti Che arriveranno Nei prossime settimane Magari andiamo ad aggiornare la lista E ci facciamo anche un altro video Perché no? Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Non ho altro da aggiungere Spero che vi sia piaciuto Tutto quello che vi ho detto E anche questi titoli Molto particolari Se qualcuno di voi Ha già sentito Questi titoli Oppure sta aspettando Che qualcuno di questi titoli Esca Per poi Magari farci una recensione Oppure anche solo per Vedere come sono Sarò ben lieto Di leggere i vostri commenti Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Iscrivetevi al canale Per non perdere Tutti i prossimi aggiornamenti E altri video Che arriveranno nel corso Delle prossime settimane Se tutto va bene Perché sto facendo video Un po' poco Spesso Ultimamente Però speriamo Di ricominciare A pubblicare Un po' più spesso Ragazzi Perché non è possibile Pubblicare Due video O tre al mese Non è nelle mie corde Non è nei mie standard L'anno scorso Ho fatto decisamente meglio Quest'anno purtroppo Forse è colpa del lavoro Forse per altre motivazioni Sto gestando molto poco Però incrociamo le dita Sperando che tutto si risolva Noi ci vediamo La prossima volta Da Matteo Godo Un abbraccio Ciao